Wabalaba dab dab, bentornati su un nome ammazzo, finalmente parliamo di Justice League Snyder Cut. Prima di cominciare vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega, condividete questo video con tutte le persone che rifanno i film e commentate qui sotto con quello che venne parso del film e di questo video. Vi iscrivetevi anche agli altri miei social, perché sicuramente sul sito Viola, quando farò le mie live di gameplay a base DC Comics, parlerò ancora in maniera un po' più estesa di questo film. Justice League Snyder Cut, o Justice League Director's Cut, che è appunto il montaggio voluto dal regista, regista Zack Snyder, che se volete associarlo a qualche film è il regista di 300 e il regista di Watchmen, per farvi dare un'idea del suo metodo di regia, della sua fotografia, delle sue inquadrature. Se venite da un mondo non nerda e siete caduti in questo video, facciamo una piccola premessa. Che cos'è la Snyder Cut? Fondamentalmente Justice League è un film del 2017, della Warner Bros., che era stato appunto affidato al regista Zack Snyder, per portare sullo schermo, diciamo, questo gruppo di supereroi della DC Comics, formato da Superman, Aquaman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, e questa è la formazione del film per darvi un'idea, anche un po' per fare concorrenza a quello che era il forte Marvel Cinematic Universe dell'epoca. La differenza tra il Marvel Cinematic Universe e il DC Extended Universe era proprio che questo ultimo universo era molto più cupo, con una regia molto più oscura, anche proprio grazie alla visione di Zack Snyder, che è stato regista anche di Man of Steel. Però non c'è stato un grande successo di queste pellicole, soprattutto di Batman v Superman, che obiettivamente non era piaciuto alla maggior parte delle persone, tranne i fan più accaniti. Quindi la Warner Bros. è tornata un po' sui suoi passi e ha voluto scopiazzare i Marvel Studios, quindi facendo delle pellicole d'ora in poi che sarebbero state un po' più colorate. Vuoi questo? Vuoi che Zack Snyder, tenetelo bene presente perché poi ci torniamo alla fine, quando il film era in post-produzione subì un gravissimo lutto personale, ovvero sua figlia Autumn si suicidò, Zack Snyder stesso, per appunto questi motivi personali molto importanti, si allontanò dal lavoro e la Warner Bros. affidò a Joss Whedon di finire questo film. Joss Whedon non si limitò al montaggio finale, ma rigirò anche alcune scene e come adesso tra l'altro sta uscendo la vicenda da parte di alcuni attori, a quanto pare non si comportò neanche molto bene con il cast di Justice League all'epoca, ma questa è tutta un'altra faccenda, fatto sta che il film che uscì nel 2017 nelle sale non era assolutamente quello che Zack Snyder aveva in mente, era probabilmente quello che aveva in mente un po' Joss Whedon, ma soprattutto la produzione Warner Bros., che voleva dargli un taglio un po' più simile a Avengers, e un po' più simile a Avengers è stato perché sembrava un po' una scopiazzatura degli Avengers, ciò nonostante, o forse anche per questo, oltre al fatto che appunto questo montaggio sembrava avere molti buchi, non sembrava avere una bella sceneggiatura, il film è stato un insuccesso, quindi addirittura al punto tale che la Warner Bros. decise di non mandare più avanti il discorso del DC Extended Universe facendo film quasi indipendenti l'uno dall'altro. Però appunto vuoi perché il cast non era soddisfatto di quello che è uscito al cinema, vuoi perché appunto non si era trovato bene con Joss Whedon come regista, fatto sta che dai membri del cast, forse il primo è stato addirittura Jason Momoa, che è l'attore che interpreta Aquaman, a lanciare su Twitter l'hashtag ReleaseTheSnyderCat, ovvero fate vedere il montaggio, fate vedere la visione di Zack Snyder su questo film. La cosa è partita quasi per provocazione, diciamo, e a parte i fan più accaniti, le persone, passatemi il termine, un po' più tranquille, un po' più normali, se ne fregavano altamente. Io per esempio ero uno di quelli che non pensava assolutamente che un cambio, un'uscita director scata di un film potesse stravolgere, diciamo, le sorti di quello che avevamo già visto, perché per la maggior parte delle volte il director scata qualche scena in più, ma non è che cambia molto la sostanza. Fatto sta che questa cosa ha preso piede anche tra i fan e Zack Snyder ha risposto a gran voce nel maggio 2020 dicendo che la Zack Snyder's Cut sarebbe stata rilasciata. E la data era fissata per il 18 marzo 2021, per ieri. Questo film è uscito sulla piattaforma libera, diciamo, su Sky Cinema, quindi per chi è già abbonato a Sky Cinema, già se lo hai visto tranquillamente, compreso nel suo abbonamento, oppure è uscito eventualmente, se non avete Sky, come nel mio caso, su NowTV. Quindi se voi approfittate dell'offerta di NowTV, potete comprarvi un mese di NowTV a 3 euro e con quei 3 euro vi guardate la Justice Nick di Zack Snyder. Vi metto poi qua sotto eventualmente il link se siete interessati da questo punto di vista tecnico. Partiamo subito dalla regia di questo film che a tutti gli effetti è un altro film perché pare che del film originale, originale, quello che abbiamo visto al cinema, si è tenuto davvero poco e si sono aggiunti ben 140 minuti in più, 140 minuti, è quasi 3 ore, 140 minuti in più di film e seppur la trama grosso modo è quella, si sente tutto un altro clima, si sente tutto un altro tono. Innanzitutto il tono è molto più epico, appunto se avete visto 300 potete capire di cosa sto parlando, quindi non c'è più quell'umorismo che per carità ha caratterizzato benissimo il primo Avengers perché è l'umorismo tipico di Joss Whedon che a me piace tantissimo lo sapete che io sono il fan numero uno di Buffy ma allo stesso tempo questo umorismo è stato poi copiato e ricopiato ad ogni film Marvel successivo ad Avengers 1 diventando caricatura di se stesso. Questo umorismo Becero fino a se stesso che era appunto anche scopiazzato anche in Justice League del 2017 non c'è più c'è tutto questo tono epico alla 300 che è una firma molto importante di Zack Snyder oltre alle sue inquadrature molto anche in diagonale cioè ci sono delle inquadrature molto fumettistiche c'è anche la sua tipica fotografia che solo Zack Snyder ha non siamo ovviamente a livelli di 300 o di Sin City però c'è una fotografia molto forte anche se è molto più fredda la luce rispetto a al Justice League del 2017 dove era tutto su un tono molto arancione qua è molto più cupo molto più freddo molto più bluastro il tono della pellicola e se in altri film come per esempio in Watchmen tutto questo stile di Snyder a me era risultato molto pesante in questo contesto è piaciuto molto non mancano anche i lati negativi della sua regia per carità per esempio il rallenty Zack Snyder lo usa veramente come il parmigiano sulla pasta lo mette davvero in una scena su due o in una scena su tre soprattutto nella prima parte del film il film è diviso in sei parti più un epilogo e nella prima forse anche nella seconda parte c'è davvero davvero tanto rallenty se poi aggiungete che il personaggio di Flash quando corre noi lo vediamo a velocità normale quindi in quello che viene definito il Flash Time anche quello è un altro rallenty e quindi c'è davvero tantissimo rallenty all'inizio che mi fa pensare che se non ci fosse stato il film sarebbe durato comunque due ore e non quattro però al di là di questa infelice battuta il film nonostante sia appunto di quattro ore scorre molto bene molti temevano che appunto il film uscendo tutto insieme in quattro ore e non in quattro episodi da un'ora poteva risultare molto lungo a una visione da casa da un video quando in realtà è solo il concetto del fatto che un film di quattro ore sia lungo ma non è assolutamente più lungo di quello che noi facciamo normalmente quando facciamo binge watching delle serie tv io fondamentalmente mi sono messo a vederlo alle 7 alle 11 l'ho finito e mi sono davvero goduto un fantastico film un fantastico viaggio sempre parlando di regie in un certo senso ma vorrei fermarmi un attimo sugli effetti speciali sono rimasto molto colpito dal fatto che nella versione cinematografica che comunque era costata 200 milioni di dollari il personaggio di Steppenwolf facesse davvero cagare qua nella versione appunto casalinga il personaggio sia migliorato migliorato tantissimo questo non so se è dovuto al fatto che così pare nella Justice League 2017 Steppenwolf probabilmente era un attore con la motion capture che era stato inserito nel film qua invece è completamente digitale lo si capisce proprio dal fatto che non ha fattezze umane è proprio di un altro pianeta ha le braccia più lunghe a sette dita ha la faccia tozza invece nell'altro film era molto più diciamo umanoide però era probabilmente molto più vicino alla nostra fisionomia da sembrare finto qua invece è talmente mostruoso che è più verosimile in questo modo oltre al fatto che non ha un elmo in testa cioè quelle corna sono davvero le sue corna ed è rivestito da una da un'armatura che ricorda molto il materiale di cui sono fatte le scatole madri e lo stesso cyborg quindi è tutto molto coerente da questo punto di vista la CGI mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto anche su su cyborg che non so perché nel film del 2017 aveva comunque questo aspetto molto grezzo ma mi sembrava più brutto qua invece mi sembra più coerente al tutto diciamo ci sono un paio di scene dove la CGI chiaramente cala poi magari ne parliamo più avanti quando faccio spoiler però direi che nel complesso funziona tutto molto molto bene parlando della trama la trama appunto come ho detto all'inizio fondamentalmente è la stessa che abbiamo visto nella Justice League del 2017 però grazie al fatto che ci sono comunque quattro ore di pellicola ci sono un paio di spiegoni che è brutto chiamarli spiegoni però un paio di spiegazioni che la rendono davvero più coerente e nonostante comunque assomigli molto al discorso Avengers e Gemme dell'Infinito qui abbiamo la Justice League e le scatole madri la raccontano in un modo che non sembra una scopiazzatura per carità lo sappiamo che Marvel e DC Comics per anni si sono un pochino lanciati la palla copiando personaggi come Deadpool Deathstroke l'X-Man la Doom Patrol tutte queste cose qua non fanno eccezione la Justice League e gli Avengers e probabilmente non fanno eccezione neanche le Gemme dell'Infinito e le scatole madri però nel modo in cui lo hanno raccontato in questa Snyder Cut non si sente così tanto questo richiamo diciamo alla saga dell'Infinito e Thanos alle scatole madri con Darkseid queste spiegazioni ci fanno capire meglio l'utilizzo delle scatole madri ci fanno capire meglio anche come può una scatola madre risuscitare il corpo di Superman ci fa capire meglio come Cyborg è legato alle scatole madri ci fa capire tutto in modo più non dico fluido perché comunque sono quattro ore però in modo molto più coerente e ora io parlerò dei personaggi di come li hanno trattati in questa versione e farò inevitabilmente spoiler spoiler a questa versione del 2021 quindi se non l'avete ancora vista mi raccomando sappiate che io ve l'ho detto parlando di personaggi allora Bruce Wayne fondamentalmente è lo stesso personaggio nel senso non cambia tantissimo vediamo molte più scene con Jeremy Irons che fa Alfred quindi qui parlo più di Alfred che di Bruce Wayne sono molto felice che abbiamo visto un po' di più di questo attore perché mi è piaciuto davvero molto nel ruolo di Alfred di come interagisce con Bruce Wayne si sente davvero come sono una squadra di meccanici che inventano i gadget per il progetto Batman si sente davvero come sono soli in quel contesto privi di Batfamiglia quanto abbiamo capito in tutto questo mondo Batman ha sicuramente perso un Joker potrebbe essere appunto Jason Todd non sappiamo se c'è un Dick Grayson non sappiamo se il Joker che ha perso in realtà invece è Dick Grayson e da lì in poi non ha più avuto una Batfamiglia quindi è in una fase in cui lui ha appena perso appena ha perso per mano del Joker un compagno un figlio adottivo che appunto è Robin e non ha più avuto nessun altro con cui collaborare per la sua missione di giustizia finché non trova appunto questi compagni che sono la Justice League Ben Affleck non in tutte le scene ma in alcune scene mi sembra davvero più sereno più allenato anche meno gonfio in alcune scene forse era gonfio quando tornava dal viaggio in cui cercava Aquaman ma in altre probabilmente era proprio l'attore che non stava molto bene se sapete cosa intendo qua l'ho visto molto più sul pezzo soprattutto anche nella scena finale quella dove lui si sveglia dal sogno apocalittico mi sembra quasi dimagrito come se appunto l'avessero rigirato forse è una delle scene che hanno rigirato non lo so però mi è piaciuto molto questo Ben Affleck mi sembra quasi ringiovanito spero davvero che tenga in considerazione di riprendere il ruolo di Batman non come regista come attore se mai facessero un sequel dato che questa versione potrebbe aver fatto successo anche Wonder Woman grosso modo ha la stessa parte diciamo lo stesso ruolo che aveva nella Justice League del 2017 il suo è il ruolo affidato agli spiegoni diciamo suo è di Cyborg fondamentalmente in cui spiega appunto la battaglia epica che ci fu millenni di anni prima tra appunto Darkseid e le sue armate con i terrestri formati dalle Amazoni e dagli Atlantidei in alleanza e dal popolo degli uomini questa battaglia epica mi ha ricordato il prologo del Signore degli Anelli quindi mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto che l'ha spiegato Diana anche in questa versione come nell'altra è suo il compito di rintracciare Cyborg il loro rapporto mi piace come si forma come si crea anche un piccolo scambio di idee con Aquaman sul rapporto tra le Amazoni e gli Atlantidei che mi ha ricordato un po' il rapporto tra Legolas e Gimli diciamo che in generale mi è piaciuto come interagiscono i personaggi in questo modo ecco Wonder Woman non è stata toccata tantissimo così come Batman però mi è piaciuto il suo ruolo qua dentro nonostante appunto non ci sia il tocco di Joss Whedon ma è tutto Snyder restano comunque le battute mi raccomando cioè ci sono comunque le battute in cui Batman e Wonder Woman parlano di reclutare dei meta umani e Bruce dice a Diana eh sì Aquaman sì farà parte dei nostri ma più o meno più più o più meno eh quella è la parte del meno cioè quella battuta c'è c'è anche la battuta del come hai fatto a ridare la casa a mia madre quella che la madre di Clark Kent ha perso la casa a causa della banca e Bruce Wendy ci ha comprato la banca qual è il tuo superpotere sono ricco cioè quello c'è ancora tutto non ci sono altre battutine stupide non c'è la parte per carità pur divertente di Aquaman che calpesta il lazzo della verità e dice che è spaventato per questa battaglia dove probabilmente andrà a morire è carina era carina come scena ma mi piace che l'abbiano tolta perché comunque Aquaman è un personaggio molto fiero in questo contesto è un personaggio molto ribelle molto è una testa calda mi piace come hanno riscritto il personaggio di Aquaman però in quella scena sembrava quasi che questo modo di atteggiarsi forse fosse un muro per nascondere la paura anche della morte la paura della battaglia in realtà non è così in realtà lui ha sì una paura ma ha la paura di prendere il trono del suo regno del suo regno di Atlantide in realtà è una persona molto orgogliosa molto come si dice molto orso che però ci tiene alle persone con cui collabora lo vediamo anche nella scena in cui ha un momento di cordoglio per la morte del padre di Cyborg il personaggio di Flash di cui parliamo un attimino perché ormai siamo abituati a vederlo nella versione di Grant Gustin nel telefilm qua appunto a molti non era piaciuto anche a me non piace molto il Flash di Ezra Miller non mi piace come lo ha trattato questo personaggio facendolo sembrare a tutti gli effetti un po' un ragazzino è vero è il più giovane del gruppo della Justice League ma dovrebbe essere comunque più responsabile più adulto di un Robin di uno qualunque dei Teen Titans qua abbiamo un Barry proprio alle prime armi un Barry che sta cercando un sacco di lavoretti per entrare in polizia che quindi non è ancora un poliziotto di laboratorio come sappiamo essere il Barry Allen classico e questo suo modo di mostrare la sua la sua gioventù è abbastanza irritante mi piace però che Flash comunque è un personaggio davvero overpowered e per diminuire un po' questa sua onnipotenza che con la sua velocità riesce a fare tutto hanno inserito la sua inesperienza a causa della sua inesperienza e anche a causa di qualche ferita ovviamente non riesce appunto a correre così veloce a fare qualunque cosa perché sennò davvero il film finirebbe subito ma al di là di questo mi piace anche che non l'hanno utilizzato nel finale semplicemente per salvare dei civili come era nella prima versione ma ha uno scopo ben preciso ovvero di correre talmente veloce da generare una carica elettrica tale da alimentare Cyborg quindi da dare energia a Cyborg per ridividere le scatole madri cosa tra l'altro che non è campata da nulla perché lo vediamo farlo anche prima in quando tentano di risvegliare Superman con la scatola madre all'interno della sua navicella quindi mi piace che abbiano usato in questo modo Flash con uno scopo ben preciso come dice lo stesso Barry Allen alla fine quindi abbiamo un piano quindi ogni membro ha un ruolo ben preciso per la sconfitta di Steppenwolf lo stesso vale per Cyborg è spiegato molto meglio il suo rapporto con le scatole madri il modo in cui riesce a controllare qualunque cosa che sia macchina che sia artificiale quindi è più che un semplice cyborg riesce proprio a controllare la materia tecnologica inorganica perché è molto connesso alle scatole madri che sono delle macchine viventi fondamentalmente e vediamo appunto come grazie a questo riesce appunto a diciamo bypassare tutti i sistemi terrestri ed extraterrestri tecnologici per appunto per esempio far tornare in vita Superman ma ridividere le scatole madri quando stanno per diventare un'unità sincronizzata e per rafformare il pianeta quindi mi è piaciuto molto come sia tutto ben sul pezzo in questo modo se non sbaglio c'era una scena finale nel 2017 dove cyborg dopo che era stato a contatto con le scatole madri cambiava leggermente aspetto si arrotondava un pochino non era più così grezzo e ricordava un po' di più il cyborg dei cartoni animati diceva anche buia che hanno eliminato ovviamente che era una giunta di Joss Whedon per strizzare l'occhio ai fan più piccoli se non sbaglio cosa che non aveva apprezzato molto l'attore hanno levato tutto cioè tutta quella parte lì è levata c'è ancora cyborg che si occupa delle scatole madri si fa aiutare da superman a dividerle con la forza quando riesce a separarle ma tutta la parte un po' comica del finale è stata tolta il personaggio di Lois Lane lo vediamo in sordina però lo vediamo che tutti i giorni prende un caffè e va su quella che è quello che è il monumento alla morte di superman quello che era stato distrutto in batman v superman lei tutti i giorni va lì per commemorare la morte del suo amato quindi non è stata portata lì da batman non è l'arma segreta non è l'artiglieria pesante per far rinsavire superman ma la sua presenza riesce a far ragionare il criptoniano appena risuscitato il fatto che fosse l'artiglieria pesante poteva giustificare la visione che bruce wayne aveva avuto in batman v superman in cui diceva la chiave è Lois e quindi bruce wayne ha portato Lois per far calmare Kal-El per far calmare Clark e quindi chiudere il cerchio di quella che sarebbe stata una sottotrama che era nata in batman v superman e qua l'hanno chiusa qua invece si vede che Zack Snyder non ha voluto assolutamente chiuderla in questo modo ma ha voluto chiuderla con quello che poi è stato l'epilogo dove appunto se Lois non ci fosse stata in quel momento o in futuro dove pare che appunto Lois sia morta Clark sarebbe diventato molto cattivo sarebbe diventato fondamentalmente il superman di Injustice nell'epilogo infatti vediamo appunto questo futuro distopico di una realtà alternativa dove eroi e anti-eroi si sono alleati per sconfiggere il regno creato da questo superman malvagio vediamo il costume di Flash del futuro quello che abbiamo visto in Batman v Superman quindi capiamo che il Flash di quella realtà alternativa è andato indietro nel tempo per avvisare Bruce Wayne e salvare Lois Lane in modo che quella realtà non ci fosse mai stata quindi Batman continua a avere questi sogni queste visioni di una realtà che poteva essere o che potrebbe essere in futuro in questo mondo post-apocalittico vediamo appunto come Batman collabora anche con Deathstroke vediamo come collabora con il Joker ragazzi c'è una scena aggiunta che non era in programma nella visione di Snyder ma l'hanno aggiunta comunque il Joker di Jared Leto viene riscattato in questa scena in questa scena Jared Leto ci dà un Joker migliore di quanto non sia mai stato in in Suicide Squad oltre al fatto che finalmente interagisce in modo diretto con Batman il dialogo tra questo Joker e questo Batman con questa tensione palpabile è oro puro e mi piacerebbe mi piacerebbe tantissimo vederli ancora insieme mi piacerebbe vedere quel Joker in quel modo così conciato con la bocca tutta sporca con un po' meno di tatuaggi tra l'altro è un Joker con meno tatuaggi nel futuro quindi non è un prequel non è non è prima che se li facesse hanno proprio riscritto un po' questo Joker tra l'altro a livello di make up Leto non è semplicemente pallido e senza sopracciglia vediamo che le sopracciglia sono state nascoste con il trucco perché chiaramente per una scena sola non se le è rasate ed è truccato proprio di bianco non è non è semplicemente pallido come in Suicide Squad quindi un Joker un po' rivisitato sempre interpretato da Leto che ci ha dato una performance fantastica personaggi di Lex Luthor Dextrot e di Martian Manhunter sono tutti camei gratuiti gratuiti per carità ma gettano le basi per quello che potrebbe essere un sequel cosa che Snyder non ha tolto perché probabilmente sotto sotto ci spera che ci sia comunque un sequel di questa Justice League con anche il personaggio di Martian Manhunter perché no sarebbe molto bello vederlo il personaggio di Darkseid oltre che vederlo nel prequel lo vediamo anche in un faccia a faccia finale quando i i League Wars la Justice League gli butta nel portale interdimensionale perché appunto non è un alieno Darkseid viene da un'altra dimensione tanto piccola differenza con Thanos per esempio quando gli buttano la testa di Steppenwolf nel finale Darkseid vede faccia a faccia Superman e tutta la Justice League è stato un bellissimo momento di confronto che io voglio rivedere in un altro film infine l'epilogo l'epilogo chiamato Padre due volte titolo che chiaramente si riferisce al rapporto che ha avuto Cyborg con suo padre quindi è un epilogo tutto dedicato al rapporto padre figlio appunto tra padre di Cyborg ma anche tra il padre di Barry Allen e Barry Allen che appunto è detenuto in carcere ingiustamente vediamo anche Aquaman che per che nel finale dice ho voglia di vedere mio padre infatti tra l'altro Aquaman poi inizia con lui che vede suo padre quindi sarebbe stato proprio un bel cerchio una bella chiusura e devo dire che questo finale è anche una lettera d'amore di Zack Snyder alla figlia che è scomparsa era scomparsa quando lui stava girando Justice League per un motivo molto grave che è appunto il suicidio quindi questo film è un riscatto di Zack Snyder è una lettera d'amore di Zack Snyder non solo a tutti i fan del suo lavoro ma anche alla figlia Autumn di cui tra l'altro c'è una dedica proprio alla fine questo film è per Autumn è per sua figlia curioso come padre due volte possa essere inteso sia come il padre di Cyborg padre naturale e creatore appunto di Victor Cyborg e sia anche per Zack Snyder che è stato padre due volte padre della Justice League del 2017 di cui ancora lui ha la firma come regista e di questa seconda Justice League del 2021 che devo dire ho apprezzato molto di più io vi ringrazio come sempre per avermi seguito fino a qua con l'inchino e con l'imbuto vi saluto fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate mentre io vi dico arrivederci al prossimo video